Lei che me la manda, non è no? Senno destro, vai 100, vai 100 e attenzione alla sinistra 3, attenzione alla sinistra 3, per destra 3, per destra 3 lunga lunga, destra 3 lunga lunga, per destra 4, per destra 4, per sinistra 4 e vai 50, vai 50, sinistra 4, vai 50, accenno destro, vai 150, in accenno destro, vai 100, in sinistra 5 lunga, vai qua, vai 50, al cartello sinistra 4, vai 100, vai, vai, vai 100 e attenzione alla destra 3, gira, destra 3, gira, per accenno sinistro, per destra 4 e attenzione, chicane entra destra, chicane entra destra, vai 100 sinistri, in sinistra 4 scende, vai 200, pieno qua, pieno, vai 200, destra 5 lunga, destra 5 lunga, vai 150, attenzione alla chicane, entra sinistra, vai 100, vai 100, e alla zebra sinistra 3, segue sinistra 3, vai, per destra 4, segue sinistra 4 lunga, scivola, e fai 50, attenzione al ponte, destra 3, non tagliare, in sinistra 5, vai 300, vai, e attenzione alla chicane, entra destra, chicane entra destra, segue destra 4 lunga, chiude, destra 4 lunga, chiude, al cartello sinistra 3, chiude, vai 50, vai 50, vai 50, destra 3, segue destra 3, destra 3, e attenzione alla sinistra 3, chiude alla zebra, per destra 4, vai 50, destra 5 lunga, vai, tutto pieno qua, per sinistra 5 lunga, questa è sinistra 5 lunga, vai, vai 100, vai, sinistra 4, vai 100, pieno, pieno, vai 100, e al ponte destra 4, molla poco poco, vai, cambia, cambia, vai 200,